Buongiorno a tutti, allora magliettina, gli ultimi video per quest'anno con questa maglietta, poi magari l'anno prossimo a Dio piacendo ne farò degli altri. Comunque proseguiamo con la storia della Coppa America dopo il video sui tre giocatori dell'Inter. Siamo arrivati al 1995 dopo che nel 1994 il Brasile beffò l'Italia ai mondiali, vediamo se i campioni del mondo si confermano anche in Coppa America. Questa volta tocca all'Uruguay ospitare la competizione, anche in questo caso ben 12 nazioni parteciperanno all'evento che si svolse nel luglio del 1995. La novità, signori e signori, sono i tre punti per vittoria, quindi tre punti la vittoria, un punto il pareggio, zero la sconfitta, quindi c'è questa news. La formula rimane invariata, nelle 12 squadre vengono divisi, divise in tre gruppi da quattro, come è successo nel precedente, passano le prime due, più le due migliori terze, tenendo conto che adesso tre punti per vittoria, un punto per il pareggio, zero per la sconfitta. Le 12 squadre sono le seguenti, le 10 sudamericane che sono Argentina, Brasile, Cile, Uruguay, Paraguay, Perù, Olivia, Ecuador, Colombia e Venezuela, più Stati Uniti e Messico, che hanno vinto la CONCACAF, cioè la Coppa del Centro e Nord America. Una nel 91 e nel 93, adesso non ricordo prima una prima l'altra, mi sembra prima il Messico, poi gli Stati Uniti, ma cambia poco. Vediamo come verranno composti i quattro gironi, ma soprattutto se terranno separate, Brasile e Argentina, come nelle precedenti edizioni. Allora, nel gruppo A sono inserite l'Uruguay, il Venezuela, il Paraguay e il Mexico. Nel gruppo B c'è Brasile, Colombia, Ecuador e Perù, quindi Brasile e Argentina, separate. Nel gruppo C, Argentina, Bolivia, Cile e Stati Uniti. Partiamo con il gruppo A e vediamo come è andato. Prima partita, naturalmente, squadra ospitante, esordì con una bella vittoria, bella succosa, 4 a 1 contro il Venezuela, mentre il Paraguay batte il Messico 2 a 1. Nella seconda partita l'Uruguay si chiuse il discorso qualificazione battendo l'Uruguay per 1 a 0, mentre il Messico si rifece nella sconfitta col Venezuela, cioè col Paraguay battendo il Venezuela 3 a 1. Quindi si rilanciò per un posto dei quarti. Nell'ultima partita al Paraguay con un po' di difficoltà batte 3 a 2 il Venezuela e quindi a sua volta si qualificò tranquillamente per il turno successivo. All'Uruguay sarebbe bastato il pareggio, al Messico un pareggio poteva andare bene perché si sarebbe portato a 4 punti e teoricamente con 4 punti aveva buone chance di essere ripescato come migliore terza. E infatti diciamo che fecero un biscottino, biscottino, un little biscotto 1 a 1 che non fa male a nessuno per una classifica che vide l'Uruguay primo con 7 punti, il Paraguay secondo con 6, il Messico a 4, il Venezuela a 0. Tengo da parte la classifica perché... No, non mi serve perché poi... Andiamo nel gruppo B. Gruppo B, Colombia-Perù 1 a 1, Brasile-Equador 1 a 0. Quindi il Brasile già svulaz, svulaz. Nella seconda partita la Colombia dopo aver pareggiato col Perù batte 1 a 0 l'Equador e si candida come possibile seconda perché il Brasile batte nettamente il Perù 2 a 0 ed è praticamente qualificato. Anche se poi si dovrà giocare il primo posto con la Colombia. Nell'ultimo turno l'Equador batte 2 a 1 il Perù e si apre una piccola chance di possibilità di qualificarsi anche se con 3 punti è dura. È dura perché comunque è una squadra già a 4 punti dell'altro girone. Mentre invece il Brasile fa capire chiaramente che il primo posto è suo e batte nettamente la Colombia 3 a 0. Tra l'altro nel terzo gol del Brasile c'è anche l'autogollonso di Guita che probabilmente non ha provato il colpo dello Scorpione ma ha fatto una delle sue paperate. La classifica finale vede Brasile 9 punti, Colombia seconda con 4 punti pensate che nell'altro girone la seconda con 4 punti è arrivata terza e loro con 4 punti sono già qualificati. L'Equador è a 3 punti e deve sperare che nell'altro gruppo la terza faccia 3 punti e abbia una differenza reti inferiore a meno 1 quindi meno 2 meno 3 meno 4 perché se no l'Equador saluta. Vedremo vedremo nel gruppo C che cosa succederà. Nel gruppo C gli Stati Uniti esordiscono con una vittoria 2 a 1 sul Cile mentre l'Argentina batte 2 a 1 la Bolivia. Nella partita successiva nel turno successivo la Bolivia batte gli Stati Uniti 1 a 0 e l'Argentina batte 4 a 0 il Cile e praticamente chiude il discorso qualificazione. Nella terza partita la Bolivia pareggia 2 a 2 con il Cile che è quanto gli basta avendo battuto gli Stati Uniti per portarsi a 4 punti ed avere la certezza di arrivare nei quarti mentre invece c'è l'incredibile clamoroso mettete quello che volete sconfitta dell'Argentina contro gli Stati Uniti per 3 a 0 sconfitta dell'Eteria perché poi e non diciamo niente poi andremo a vedere i quarti come si sono sviluppati. La classifica finale del gruppo Cile negli Stati Uniti primi addirittura con 6 punti e più 3 di differenza reti, l'Argentina con 6 punti e seconda con più 2 di differenza reti, la Bolivia è terza con 4 punti qualificata per i quarti di finale, il Cile svulazza a casa perché le tre classificate sono il Messico 4 punti più 1 di differenza reti, la Bolivia a 4 punti e 0 di differenza reti, l'Equador è a 3 punti quindi praticamente Messico migliore terza classificata, Bolivia migliore seconda classificata, terza ecco migliore terza seconda classificata come preferite. Comunque tutti e due Messico e Bolivia accedono ai quarti di finale e sono anche, non è che sono sfigatissimi perché alla fine della fiera il Messico affronta gli Stati Uniti e la Bolivia affronta l'Uruguai mentre invece la povera Argentina che mi arriva a seconda nel girone va ad affrontare il Brasile per una sfida tosta, 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 quindi l'Argentina detentrice del trofeo sfida il Brasile. Sono i quarti di finale ai calci di rigore di rigore come si suol dire perché si parte subito con Colombia Paraguay 1 a 1 dopo i tempi supplementari passa la Colombia 5 a 4 ai calci di rigore. L'Uruguay batte 2 a 1 la Bolivia quindi non ha bisogno dei calci di rigore Nella sfida tutta Nord Centroamerica-Usa-Messico la partita termina 0 a 0 ma poi i messicani ne combinano di ogni ai calci di rigore non ne segnano uno solo e gli USA passano vincendo 4 a 1. Nella sfida tra Brasile e Argentina la partita termina 2 a 2 dopo i tempi supplementari ma alla fine alla meglio il Brasile 4 a 2 ai calci di rigore quindi tre partite su quattro terminano i calci di rigore questo per farvi capire l'equilibrio che c'era e l'unica partita che non è finita a calci di rigore è terminata 2 a 1 quindi equilibrio al massimo Andiamo alle semifinali dove l'Uruguay gestisce della Colombia a piacimento vincendo 2 a 0 mentre il Brasile grazie al gol nei primi minuti nel primo quarto d'ora di Aldair sono andato a curiosare ve lo dico così a passano batte 1 a 0 gli Stati Uniti quindi la finale è Brasile-Uruguay e la finale terzo quarto posto e USA-Colombia. Nella finale terzo quarto posto la Colombia massacra gli Stati Uniti vincendo 4 a 1 mentre invece la finalissima Uruguay-Brasile finisce ai calci di rigore perché dopo i tempi supplementari l'incontro è sull'1 a 1 ai calci di rigore quelli che solo un anno prima avevano regalato la vittoria al mondiale contro l'Italia al Brasile questa volta sono deleteri per la squadra sudamericana perché è l'Uruguay altra squadra sudamericana ma era per non ripetere Brasile ad avere la meglio 5 a 3 ai calci di rigore e quindi l'Uruguay che ha organizzato la competizione la vince pure anche se di rigore detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo ai prossimi video che farò nella notte perché devo fare la Formula 1 eccetera 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 adesso vado a scrivere per Interlive che me tocca ciao ciao